Ciao a tutti, voglio farvi vedere un'altra cagata che ho fatto stamattina. Avevo questo coso che gira per i cammini e petteria sul fumo che non utilizzavo. Gli ho dato il colore e li ho messo sopra il portone. Sì, lo so, è una cagata, però dai, insomma, qui abbiamo le zoe. Seppre ne ha fatto il bagno sul fosso. Insomma, ho detto, piuttosto di buttarlo via, vedo il colore e lo butto lì, perché devo sistemare il cammino. Vado a buttare il gasolio a capo, perché non mi piace mia. Questi erano adesso ora, e ora vaffanculo. Allora, tec. Figata. Che c'è adesso?